Il livello delle relazioni, oltre che arricchire tutti noi sul piano culturale e professionale, possa essere lo spunto anche per le riflessioni, per i colloqui che gli studenti di quinta poi avranno durante l'esame di maturità. A me sono concesso che siano ammessi all'esame ovviamente. Dobbiamo? Devo sottoscrivere? Certo, benissimo. Vediamo il vostro comportamento stamattina o domani mattina e poi eventualmente certificherò. Ringrazio ovviamente, come dicevo, i docenti, ringrazio anche il pubblico presente, perché ho visto che in sala ci sono anche degli ospiti, delle persone non appartenenti alla scuola. Ovviamente ringrazio i relatori. Non abuso, ripeto, del tempo, anche perché stiamo partendo poi in ritardo, e desidero lasciare la parola ai relatori, soltanto spiegare agli studenti, soprattutto a quelli di quarta che forse conoscono meno questa realtà, e agli ospiti di che cosa si tratta. La nostra scuola, brevemente, un brevissimo escursus, sei anni fa ha pensato di organizzare, ed è previsto nel piano dell'offerta formativa, un convegno annuale. Lo scopo del convegno, se volete, gli scopi erano non molti, uno, se volete, un po' banale. Ed era legato al fatto che la cittadinanza, Treviso, non sapeva, non conosceva, che a Treviso ci fosse un istituto alberghiero. Quando io dicevo, sono presso di alberghiero, tutti mi dicevano, ah sì, di Castelfranco. Voi perché non avevamo una sede adeguata ed eravamo, come dicevo io, accampati, in prefabbricati e in vari posti della città. Voi forse perché la scuola, come istituto autonomo, non dipendente a Castelfranco, è diventata autonoma dall'anno scolastico 99-2000. Insomma c'era una serie di motivazioni per cui la città non conosceva che tra le scuole superiori esistesse anche un istituto alberghiero. L'altro aspetto, e l'aspetto diciamo preponderante, era un convincimento che avevamo come scuola, come docenti, che non c'è scuola che si possa chiamare tale se non è consapevole che trasmettendo cultura e informazione la elabora e non può non interagire con il territorio. Tanto più una scuola professionale, a nostro parere era insensato che la scuola fosse chiusa in se stessa e non si aprisse al territorio e proponesse al territorio e ricevesse dal territorio. La proposta del convegno quindi partiva da pretesti in senso buono, da qualcosa tipico, specifico della scuola, e che però venisse ampliato e giustificato a livello culturale più ampio. Per cui fin da subito, anche se l'argomento pareva un argomento specifico, sono stati invitati come relatori, docenti universitari e personalità del mondo della ristorazione, dell'accoglienza e così via. E fin da subito abbiamo deciso che non doveva essere la sede del convegno della nostra scuola, ma doveva essere una sede prestigiosa della città proprio a dimostrare che anche una scuola professionale non ha niente di meno di una scuola liceale. Abbiamo chiesto e abbiamo iniziato una collaborazione molto stretta con la Fondazione Casamarca, per cui i convegni li abbiamo sempre tenuti o presso la Casa dei Cararesi o presso l'Università di Treviso. Dopo l'esperienza di cinque anni, l'anno scorso l'organizzazione, la rete dei alberghieri d'Italia, che è una rete che raggruppa decine e decine di scuole alberghiere, ci ha chiesto di, riconoscendo questa capacità organizzativa di organizzare un convegno annuale per conto dei alberghieri d'Italia sui temi della riforma, che l'abbiamo organizzato, ma quest'anno abbiamo pensato che forse bisogna fare un passo ulteriore, ed era il coinvolgimento in prima persona degli studenti, che avverrà in modo che gli studenti non siano soltanto elementi passivi di questa iniziativa, e avverrà oggi pomeriggio con l'organizzazione dei workshop dei laboratori, e domani pomeriggio presso la palestra del campus che abbiamo del Planck, dove gli studenti si esibiranno, e ovviamente la sera dove si esibiranno nei confronti di centinaia di persone, di genitori e di persone esterne, con una cena di gala. Ecco, questa è un po' la sintesi. Con una proposta, che è una proposta molto, molto, se volete, azzardata. A me, personalmente, mi tremono i polsi. Ho una scappatoia, che mi è arrivata la lettera dalla direzione regionale, che il primo settembre sono in pensione, per cui dico, vabbè, poi in futuro non sarò più responsabile. Mi tremono i polsi perché la proposta è una proposta molto impegnativa. Il tema della bellezza, uno non si aspetta che venga dal nostro istituto. E allora vi cito un piccolo episodio, e poi do la parola agli ospiti, che mi è capitato qualche anno fa nella mia scuola. Allora, personalmente, credo che il discorso riguardante la bellezza non sia patrimonio soltanto di chi studia la storia dell'arte. E se è un dispiacere, è che la riforma cosetta Gelmini non abbia esteso lo studio della storia dell'arte, come la geografia, per esempio, a tutti gli studenti d'alberghiero. È impensabile che uno studente d'alberghiero, che si presume un giorno sarà uno chef, un maître di ristorante o di hotel, non conosca il patrimonio storico-artistico del nostro paese. Ma insomma, io non sono nessuno, per cui, se hanno deciso così, vuol dire che andava bene così. Ma al di là di questo, vi racconto questo piccolo episodio. Voi sapete, l'ho raccontato giorni fa, che ho avuto, che sono passato in tutte le classi quarte e quinte a salutare gli studenti, e mi è venuto in mente in qualche classe, di raccontare questo episodio. Il ministro precedente, il ministro Gelmini, il ministro Fioroni, ha istituito, ha promosso un'iniziativa, a mio parere, molto interessante, chiamato il progetto Dante Alighieri. In realtà è un progetto che, come si dice, nella logica del ministro, voleva promuovere, vuole, perché esiste ancora, a promuovere la conoscenza della poesia, la diffusione della poesia nelle scuole italiane. Partendo appunto dai grandi Dante Alighieri, Petrarca, eccetera, che oltretutto sono la base della nostra lingua nazionale. Il primo anno è stato istituito, ovviamente in ogni regione c'è un nucleo, formato da grandi cervelloni, che portano avanti i progetti. Il primo anno il progetto si è concluso qui a Treviso, all'università, e hanno chiesto a me se, visto che erano ospiti dell'università di Treviso, se si poteva concludere con un pranzo nella nostra scuola. Sono venute queste 20 persone, alcune le conoscevo, un ispettore, una discendente, un Alighieri che abita a vero, una discendente di Dante, altre persone però, sapete come vengono presentate, poi, almeno capita a me, non ricordavo più il nome. A un certo momento del pranzo, un signore che mi stava di fronte, e che poi si è qualificato come docente di storia del teatro e di teatro all'università Ca' Foscari, mi dice, preside, facciamo un progetto di teatro con lei, con la sua scuola. Che io dico, le chiedo scusa, abbiamo una barca di progetti, mi manca un ulteriore progetto, così prima i professori mi linciano e poi io vado fuori di testa. Anche perché, voi sapete, abbiamo un progetto teatro a scuola. L'altra sera c'è stato lo shout, l'esibizione finale, e già stamattina gli studenti mi hanno riproverato che non ero presente, chiedo scusa ufficialmente. Non ce la faccio ad essere presente a tutto. Non ho ancora il dono del... Un politico, intervenendo al Parlamento, ha detto il dono dell'obliquità. Non ho il dono dell'obliquità. E dico, come mai mi fa questa proposta? E questo signore mi dice, io da quando sono entrato in questa scuola ho osservato un po' tutto e osservo i suoi studenti. Sono sicuramente ragazzi giovani come gli altri, ma io sto notando come salutano, come porgono i piatti, come si rivolgono agli ospiti. Sto notando i piatti. Qua dentro, mi ha detto, c'è il trionfo della bellezza, il portamento degli studenti, eccetera. Sto pensando ai miei studenti che arrivano dalla terza media e sembrano i trogloditi, che hanno i sederi fuori, i pantaloni inguinali e così via. E poi li vedi... E ho cominciato anche io a osservare la gestualità, la bellezza. Allora forse non è improprio il fatto che un istituto alberghiero proponga alla città e alla provincia di Treviso un festival che speriamo riscontri con senso nel mondo politico, nel mondo impreditoriale di questa bellissima ma anche operosa e per certi aspetti ricca provincia perché questo possa diventare in futuro un patrimonio non dell'istituto alberghiero ma un patrimonio della cittadinanza e della provincia. Grazie. Grazie.